Comincia con Anamosa, premio Anamosa, vincitrice di premio allevatori, vincitrice anche un po' fortunosa perché sbagliò a Biego in vista del palo, lasciandole la vittoria. È un miglio per i quattro anni, sono in sette al via. Esmeralda SM, Gianpaolo Minucci, Ecoguale, Roberto Vecchione, Ridano Di Celle, Antonio Velotti, Emanuela Caff, Caff, Alessandro Cocciadoro, Eureka Griff, Ruggero Colletti, Avanti Sprizzi, Antonio Di Nardo, Elio Tuess, Crescenzo Maione. Rinuncia al lancio proprio Elio Tuess dall'esterno, parte con cautela anche Avanti Sprizzi e allora nel lancio cercano di emergere Eridano Di Celle, Emanuela Caff, Caff e più a largo anche Eureka Griff. Eridano Di Celle con a lato la compagna di allenamento Eureka Griff, tiene la posizione in corda, Emanuela Caff, Caff davanti a Ecoguale, poi Avanti Sprizzi e Esmeralda SM, mentre ha sbagliato Elio Tuess. Eureka Griff ha il via libera senza strappo da Eridano Di Celle e conduce nei confronti del compagno di allenamento che precede sempre Emanuela Caff, Caff, Ecoguale, Avanti Sprizzi che accenna per un attimo la mossa esterna e Esmeralda SM. E invece Ecoguale che si muove per primo dalla quarta posizione quando siamo all'imbocco della seconda curva, comanda sempre Eureka Griff su Eridano Di Celle che cerca di tenersi la destra libera, mentre Eureka Griff completa il mezzo miglio iniziale in un minuto e sette decimi, si viaggia sul piede dell'1.16 scarso con Ecoguale che giunge al Salchi di Eridano Di Celle. Quando siamo al completamento del primo giro, primo chilometro in 1.14.7 con Ecoguale che ha girato la timida posizione di Eridano Di Celle trascinandosi Avanti Sprizzi, e poi Emanuela Caff, Caff e in coda Esmeralda SM. Situazione che non muta con sestetto compatto a 300 metri dalla conclusione, Eureka Griff che cerca di replicare a Ecoguale, Eridano Di Celle che ha il problema di liberarsi dalla corda, prova a farlo in anticipo su Avanti Sprizzi, ma nel frattempo Eureka Griff è passato su Eureka Griff, Ecoguale in leggero vantaggio su Eureka Griff per linee interna e anche Emanuela Caff, Caff. Poi Eridano Di Celle allargo di tutti, anche lo scatto di Esmeralda SM sul palo, Ecoguale davanti a Esmeralda SM, ma tutti in un fazzoletto. La vittoria per il favorito Ecoguale, 1.58.3 sul mio cronometro, media di 1.13.9 per l'allievo di Holgerer guidato da Roberto Vecchione, che in retta di arrivo ha avuto ragione della battistrada Eureka Griff, per linee interna e c'è, ma senza spazio alla fine, Emanuela Caff, Caff. Sul palo Ecoguale è primo, finisce forte a largo Esmeralda SM, dovrebbe essere seconda nei confronti di Eridano Di Celle e Avanti Sprizzi, che sono praticamente vicini su di una linea, potrebbe essere terzo Eridano Di Celle, ma sono tutti molto molto vicini, dovrebbe essere 2.13 il probabile arrivo della prima di Capannella e la linea che può andare allo studio. Andrea Zanoboni Grazie a tutti.